poche cose ma super belle ciao a tutti e bentrovati sul canale oggi una nuova mix haul c'è un po' di tutto accessori, vestiario, make up un po' di tutto è una haul con pochi pezzi ma stupendi ci sono due pezzi la potremmo chiamare la double haul perché ci sono due pezzi per ogni categoria cominciamo subito cominciamo subito con un'azienda con un prodotto che mi è stato inviato vi faccio vedere prima i prodotti che mi sono stati inviati e poi i prodotti che ho comprato io un prodotto bellissimo che mi è stato inviato da Lily Silk vi metto il link del sito qua sotto in info box e andatelo a vedere se vi serve qualcosa di seta sempre se vi serve qualcosa di seta non acquisti compulsivi ma acquisti ragionati e adesso capirete perché perché su Lily Silk fino al 13 di agosto ci sono i super sconti e conviene un sacco se vi serve qualcosa di seta andarla a prendere anche perché c'è una sezione abitini che è strepitosa io ne ho preso uno mi è stato offerto mi è stato detto di scegliere un qualcosa ho scelto un vestitino che è veramente delizioso ora ve lo faccio vedere qui sulla gruccia non dirà nulla ma me lo vedrete indossato nella foto allora scollo così un po' largo a barchetta smanicato cuciture in vita e poi gonnellina larga 100% seta pura un vestito che è un amore cuciture manco a dirlo perfetto la cerniera è dietro guardate neanche si vede per quanto è cucita bene è veramente stupendo Lily Silk non è un brand low cost è un brand di alta sartoria che tratta soltanto cose in seta soltanto abbigliamento e biancheria in seta quindi non andate a guardare il sito con l'idea che sia low cost ma andate a guardare il sito con l'idea che siano cose fatte bene che però per essere seta costano veramente nulla perché un vestito di questo in pura seta 100% qui almeno nella mia città io meno di 400 euro 350 pura seta non riesco a trovarlo mentre lì ci sono prezzi veramente ben più bassi io l'ho pagato cioè il costo era un terzo di quello che vi ho detto adesso vi dico anche che c'è un coupon un codice sconto per voi 15% di sconti oltre i saldi sul digitando la parola ombretta con la maiuscola ve lo scrivo anche qua tutti i link di riferimento li trovate giù nell'info box e ricordatevi che dal 2 al 13 agosto i grandi sconti sulla seta di Lily Silk io ringrazio questo brand che è veramente veramente affidabile i vestiti arrivano confezionati in pacchetti dono meravigliosi quindi se volete approfittarne anche per fare guardate con i sigillini vi voglio fare vedere come arrivano le cose le ricevute la velina tutta marchiata il vestito ovviamente è ravvolto nel tutto attorno al cartoncino la brochure del brand di accompagnamento ah e vi volevo fare vedere le certificazioni di Lily Silk le certificazioni che sono seta 100% da bozzolo che non sono colorate con con roba chimica che le tinture sono assolutamente testate contro insorgenza di ogni tipo non sono tossiche per intenderci la dicitura soddisfatti o rimborsati 45 giorni di tempo per pensarci e la risoluzione dei soldi è garantita se volete vi ricamano anche il monogramma su quello che volete ordinare cucito a mano quindi capite bene che non è un'aziendina è una bella azienda che si occupa di seta ad alti livelli e quindi ombretta per avere lo sconto del 15% su qualsiasi cosa vi vogliate all'interno del sito il mio vestito è stupendo sono contentissima di averlo preso ringrazio di questo Lily Silk un'altra azienda con cui mi pascio di collaborare sono quelle aziende dove quando ricevi il pacco è veramente un regalo la Sufile è un'azienda su cui ripongo particolarmente fiducia e questa volta ho comprato dopo l'orologio di arte per te che ho regalato a Rossella ancora te lo devo spedire Rossella arriva ma adesso l'ho preso Enzo perché è il momento che Enzo impari a leggere l'orologio quello dei grandi quello con le lancette e i numeri o anche senza numeri che impari a leggere il quadrante e allora volevo regalargli un orologio che non fosse scomodo che fosse leggero ma che fosse anche bello che non fosse particolarmente pesante la Sufile ha fatto questi bellissimi guardate orologi stacco la plastichina insieme a voi tanto per intenderci questi bellissimi orologi in legno con quadrante guardate ancora tutto imballato con quadrante personalizzato siamo nella fase giurassica di Enzo fissato di nuovo con i dinosauri e tutte le vicende di Jurassic Park Jurassic World e allora io glielo ho fatto personalizzare con un bel dinosauro il simbolo in pratica di Jurassic Park in modo che lui si metta questo bellissimo orologio da uomo ragazzi Gabriele appena l'ha visto dice ma questo me lo metto io effettivamente sì perché gli starebbe Penenzo è enorme ma glielo ho preso grosso apposta per fargli capire come si legge l'ora vi faccio vedere come si apre basta schiacciare qua e si apre una bellissima chiusura leggerissimo e dietro la dedica per Enzino noi abbiamo fatto scrivere mamma e papà sono sempre con te è cuoricino è bellissimo bellissimo potete personalizzarlo con ciò che volete con le vostre foto o semplicemente lasciarlo color legno è bellissimo lo stesso è stupendo e Enzino farà un figurone non avrà l'orologio dei piccoli ora io gli accorcio la maglia perché è fattibilissimo e tra l'altro la maglia è tutta regolare quindi non cambierà le fattezze gli accorcio la maglia e lui andrà a scuola col suo super mega orologione che non dovrà neanche sforzarsi tanto a leggerlo ma ha il quadrante bello largo giurassico e non è detto che un domani glielo prenda anche con Super Mario io che ne so a lui piacciono questi due soggetti così per cambiare il suo primo parco orologi sono orologi bellissimi è stato veramente un po' uno spreco tra virgolette averlo preso per Enzo e non per Gabriele o per me ma io uso sempre il mio Gabriele è poco attento agli orologi quindi ed Enzo lo desiderava tanto e quindi glielo ho voluto regalare per me invece arriva una cosa bellissima ve lo faccio vedere è un braccialetto con uno strass in movimento guardate si riesce a vedere lui si muove è mobile è brillosissimo si apre così è un braccialetto rigido si infila così elegantissimo ce ne sono vari modelli e quello che è è questo qua io devo essere sincera metterò anche dei charms su questo perché lo userò a modo di bracciale rigido in cui mettere altri charms della Sufil è molto molto carino e di questa linea vi copro il rosario ma e di questa linea con i brillantini vibranti c'è tutto c'è tutto i bracciali le collanine gli orecchini sono molto molto carini molto molto d'effetto e anche molto molto fini a me piace molto questo braccialetto anche messo semplicemente così io quando l'ho preso l'ho immaginato come questo come Susta e poi altri braccialetti quelli con i brillantini tutti attorno ma non è detto ora vedremo vedremo come come mi piacerà di più indossarlo lo lascio su perché è bellissimo vi è piaciuto l'orologio di Enzo che ne dite voi con che cosa l'avreste personalizzato è a batteria è facilmente intercambiabile ah avete uno sconto anche voi 15% coupon sconto con la sigla che leggete qua sotto OMBPS 15 la O maiuscola e quindi se dovete comprare fare un regalo adesso è periodo matrimoni ogni 5 minuti cresime comunioni ne abbiamo di ogni e allora pensatela su Phil perché è una bellissima casa fa confezioni regalo stupende tra le altre cose e vi fa fare un figurone perché le cose sono di ottima ottima qualità garantite super testate parola mia che non ci guadagno nulla in termini di percentuale dal venduto né su questi né su LilySilk assolutamente no i codici non servono per darmi una percentuale servono soltanto per monitorare quante persone vanno a curiosare il sito attraverso il mio account quindi se volete farlo bene se no non importa ma vi ricordo sempre comprate solo se dovete comprare se ne avete la necessità come io avevo la necessità di comprare su Zalando con i miei soldini non uno no ben due paia di scarpe ho deciso che i sandali quasi quasi non mi piacciono più dall'ultima mia rovinosa caduta di cui vi ho documentato su Facebook Instagram se non mi seguite su Instagram venitemi subito a trovare perché lì ci si diverte da pazzi e allora ho voluto prendere due scarpine una estiva e una invernale approfittando dei saldi su Zalando saldi su Yux allora quindi non Zalando scusate ma Yux su Yux la prima scarpina che ho preso quella estiva è questa è spettacolare ora ve la faccio vedere anche indossata è spettacolare vernice nera tacco non altissimo è un 10 mi pare io mi ricordo fosse un 8 e mezzo comunque mi pare sia un 10 ma è comodissimo la punta super punta ma le dita fate conto arrivano qua e si vede l'attaccatura delle dita dallo scollo della scarpa che è una cosa che mi piace tantissimo perché è molto scollata e poi questo cinturino basso che non è alla caviglia è un po' più giù ma fa stare la scarpa bella bella stabile ragazzi è stupenda suola in vero cuoio è vernice ma è vera pelle io sulle scarpe non transigo devono essere fatte bene ci spendo di solito non in questo caso di solito un po' di più ma devono essere fatte bene ma questo è uno dei rari esempi in cui non bisogna spendere tanto per le scarpe perché queste bellissime scarpe tra l'altro è un made in italy questa marca stele queste bellissime scarpe io le ho pagate sulle 55 euro insomma tutte e due le paia sono venute 114 quindi era un affare irrinunciabile guardate hanno anche la plastichina parasuola sono meravigliose meravigliose bellissime poi io adoro la vernice perché è elegantissima si mette con tutto motivo per cui anche in inverno sono andata di vernice in pratica è la corrispettiva invernale la scarpa più elegante del mondo anche questa vera pelle suole in pelle ho preso per entrambe il 41 perché perché essendo una scarpa così a punta se il piede mi va troppo avanti mi distrugge oltre a far venire l'alluce valgo e questo noi non lo vogliamo metterò una suoletta in gel qui anche se non le ho prese 12 le ho prese solo 10 è un tacco portabilissimo la scarpa accompagna bene il piede quindi non sentite la fatica non è un tacco di quelli super vertiginosi oramai siamo abituate quasi tutte a portare un 10 errore i tacchi di entrambe le calzature non sono 10 sono 8 e mezzo infatti ricordavo di averlo preso più basso ma credetemi io credo che sia un signor tacco la scarpa è ben armonizzata poi se volete stare sui trampoli amen ma per me 8 e mezzo va più che bene una scarpa ben aggraziata anche questa adesso ve la faccio vedere in movimento è bellissima è super super bella e anche queste le trovate su Yooks vi metto i link qua sotto erano in sconto quando le ho prese io ripeto una 55 e una 58 una cosa di questo genere proprio poco 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 meravigliose per il mio compleanno non penso di avervelo fatto di avervelo fatto vedere in caso contrario perdonatemi per il mio compleanno mi sono regalata un vestitino di Desigual è un vestito lungo guardate che bello questa fantasia verde arancio è scolla V stile impero quindi sotto il seno all'elastico e poi scende ha questa piccola culisse che è vera non è finta si può stringere il vestito e poi scende a portafogli così lunghissimo la cosa super bella ve l'avevo fatto vedere questo non me lo ricordo però è troppo bello per non farvelo vedere è la parte inferiore che è tutta piena di cactus stilizzati e io sto in fissa con i cactus bellissimo fresco freschissimo freschissimissimo adesso con gli sconti io l'ho presa a prezzo intero mi pare ma comunque con gli sconti sta a circa 50 euro quindi se vi serve anche lì un bel vestito che faccia una bella figura e che sia fresco portabile in estate sia con dei sandali bassi che con dei sandali alti quello è stupendo infine ultimo arrivo è un arrivo di make up regalatomi dalla mia amica Valentina a cui mando un bacio che per il mio compleannuzzo mi ha regalato oltre a un bellissimo charms per il mio braccialetto ma quella è una cosa privata mi ha regalato anche questa confezione era una confezione in cui c'era questa combo il Dior Show un mascara meraviglioso che ho provato oggi questo trucco lo vedrete realizzato in un mi preparo con voi e ho usato loro due questo Dior Show meraviglioso un mascara stupendo un mascara molto molto elegante un effetto evidente non volgare con questo scovolino bananoso bellissimo sono entusiasta di questo mascara e questo mini quad meraviglioso anzi no è un 5 colori bellissimo con questi colori grigio neutri spettacolari tutti scimmerini tranne questo qui ed è il trucco che mi vedete oggi ho già usato uno due tre questi tre molto molto bello stupendo bene questa è la mia double haul due vestiti due paie di scarpe due pezzi di make up e due pezzi di accessori c'è tutto no non manca niente ditemi cosa ne pensate approfittate dei codici sconto se ne avete la necessità per il resto basta ci diamo appuntamento sempre qui per il prossimo video un grande bacio e grazie sempre per tenermi compagnia ciao ciao